Musica Bene salve, buonasera a tutti gli istini europei chiudono la seduta all'insegna della cautela Orfani di Francoforte chiusa per festività il Libex quindi chiude a meno 0,09% CAC più 0,30% Fuzzi Londra meno 0,66% Fuzzi in Bible che chiude a più 0,02% Per quanto riguarda le news come sono state rilasciate oggi il sentiment del mercato è prudente sia per timori relativi al rallentamento della crescita globale sia per quelli legati al commercio Sul fronte magro l'indice PMI del composito dell'Eurozone a finale di settembre si è attestato a 50,1 punti in discesa rispetto ai 51,9 di agosto il dato è inferiore alla lettura preliminare al consenso entrambi a quota 50,4 punti l'indice finale relativo al settore dei servizi si è invece attestato a 51,6 punti in calo rispetto ai 53,5 del mese precedente Entrando nel dettaglio dei singoli paesi L'indice PMI dei servizi definitivo della Germania di settembre è sceso a 51,4 punti contro i 54,8 del mese di agosto e al di sotto della lettura preliminare a 52,5 punti L'indice PMI dei servizi francesi invece si è attestato a 51,5 punti rispetto ai 53,4 del mese precedente leggermente al di sotto la lettura preliminare a quota 51,6 punti in Italia invece la lettura del PMI dei servizi ha toccato un 51,4 punti in salita dai 50,6 punti del mese di agosto Per quanto riguarda gli USA, gli ordini alle imprese americane sono diminuite dello 0,1% un mese per mese in agosto meno del consenso degli economisti che si aspettavano un calo dello 0,5 mese del mese Bene, mentre andiamo a vedere domani che cosa ci offre ultima giornata della prima settimana del mese di ottobre venerdì 4 ottobre abbiamo già durante la notte dall'Australia il rapporto sulle decisioni della banca centrale australiana allo stesso orario abbiamo le vendite al dettaglio di agosto mentre alle 14.30 attenzione ai non fan per all con quindi del mese di settembre sembra allo stesso orario abbiamo il saldo della bilancia commerciale e il tasso di disoccupazione di settembre mentre invece per quanto riguarda il Canada alle 14.30 il saldo delle bilance commerciali di agosto è l'indice e-way dei direttori degli acquisti di settembre relativo alle ore 16 sempre per quanto riguarda il Canada Bene, passiamo adesso ad analizzare gli scenari più importanti partendo dall'euro dollaro sia in ottica giornaliera che in un'ottica H4 per quanto riguarda la situazione legata al giornaliero il grafico evidenzia una situazione in cui molto probabilmente nelle prossime giornate potremmo assistere a una fase una continuazione del movimento di trend ribassista quindi dettato in ottica H4 quindi nel breve termine da questa bearish white swan con il punto di swing che se viene mantenuto che sarebbe il punto D di questa bearish white swan potrebbe andare ad alimentare ulteriori movimenti ribassisti all'interno del trend quindi abbiamo un punto di swing terziario questo è un punto primario quindi potrebbe a questo punto c'è la possibilità di una partenza ribassista ovviamente aspettiamo un setup di ingresso a mercato interessante per quanto riguarda invece gli altri scenari che abbiamo ancora operazioni a mercato andiamo a vedere per quanto riguarda dollaro yen tutte le coppie in cui è presente lo yen abbiamo raggiunto il primo target oggi pomeriggio sia sul dollaro yen che a 106,80 primo target abbiamo spostato lo stop loss a brecchini della seconda operazione e qua si evidenzia praticamente andando sempre ad analizzare la situazione multi time frame sia in ottica giornaliera che in ottica H4 notiamo un double top un doppio massimo quindi una V e da qua c'è stato un bel movimento al ribasso è partito un ottimo movimento al ribasso quindi movimento di un bel po' di punti adesso il prezzo sta facendo a rimbalzare quindi vedete sta rimbalzando su questo livello annuale a 106,751 quindi sto attendendo come chiude questa candela perché ovviamente se resta così molto probabilmente andrò a chiudere anche la seconda operazione che abbiamo ancora a mercato con in questo momento la seconda operazione si trova a circa 55 punti di profitto bene mentre invece andiamo a vedere le altre operazioni di cui abbiamo andiamo a vedere andiamo su Stellina Dollaro Stellina Dollaro un momento coincitato oggi dettato appunto da una situazione legata ai mercati un po' particolare nel senso che in pratica abbiamo assistito movimento rialzista subito dopo ora di pranzo dovuto alcune indicazioni da parte di Boris Johnson però adesso abbiamo sul giornaliero oltre ad avere questa bearish total abbiamo uno, due tre massimi decrescenti quindi anche qua vedete sul quattro ore questo è il movimento del eccolo qua sarebbe la candela quella del precisamente quella la candela del andiamo a vedere quella del 20 settembre e anche qua abbiamo eccola qua 20 settembre vedete quindi c'è stato il movimento uno, due, tre e adesso praticamente il prezzo si è fermato tra il 50 e il 61,8 di questo movimento vedete abbiamo già una una barra di esaurimento questa barra di esaurimento potrebbe comportare una partenza ribassista quindi una movimentazione di stampo ribassista quindi attendiamo un setup sell di ingresso al mercato dove potrebbe riportare inoltre i prezzi con un primo target di nuova quarantina di punti secondo target potrebbe anche raggiungere un'altra volta il minimo della seduta in minimo l'ultimo questo l'ultima zona l'ultimo minimo quindi aspettiamo aspettiamo un setup di ingresso al mercato mentre invece per quanto riguarda gli altri setup le altre operazioni cui stiamo al mercato andiamo a vedere euro yen anche per quanto riguarda la situazione su euro yen anche qua vedete non mi piace più dopo vado a chiudere l'operazione su euro yen vado a chiudere l'operazione a 30 a 35 punti quindi praticamente perché perché si è creato un punto di swing nonché su h4 abbiamo una bullish max guard questa è la situazione la bullish max carter quindi da qua potrebbe partire una operazione rialzista di la verità quindi poi qua abbiamo anche delle barre di esaurimento di questo movimento quindi da questa zona molto probabilmente dopo andrò a chiudere euro yen andrò a chiudere quindi l'operazione su euro yen mentre invece per quanto riguarda le altre operazioni andiamo a vedere andiamo a vedere su new zealand yen allora new zealand yen anche qua situazione un po' particolare il prezzo sta correggendo abbiamo anche qui un punto di swing da qua potrebbe partire un movimento un altro movimento a rialzo quindi anche qua la situazione non è che sia proprio tanto bella da vedere quindi anche molto probabilmente andrò a cancellare anche new zealand yen mentre invece per quanto riguarda le altre operazioni andiamo a vedere anche usd card usd card operazione che è entrata oggi pomeriggio alle ore 17.06 andiamo a vedere insieme il sell su usd card eccolo qua quindi abbiamo un punto di swing abbiamo il movimento abbiamo una una bearish guard ed qui praticamente in questo momento siamo a meno 20 punti di profitto però ci sta uno diciamo andato a prendersi questo 133 261 da qua potrebbe partire una movimentazione al ribasso bene per oggi è tutto non c'è altro da aggiungere aspettiamo i prossimi movimenti per decidere quindi per identificare i prossimi movimenti appunto per vedere un po' domani mattina da poter analizzare all'interno dell'ultima diretta live della settimana alle ore 8.30 buonasera da tutti un po'